Ragazzi stiamo riprendendo l'aria che parla con il cane, è pazza, è pazza. Non sono pazza, gli stanno da mangiare. Ebbene, ciao ragazzi, sono i vostri? Mira e Mira. Oggi siamo qua su... Ho visto passare una freccia. Sì, perché ci sono... Ho visto passare una freccia, guardate, c'è il nostro amico. Ciao amico, ciao, 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 guardatelo, guardate com'è bellino, guardate lì. Ciao amico, ciao. Prendi l'aria, prendila, prendila, spargli, spargli, in faccia. Dicevo siamo sulla Grand Sky, vediamo se il cane mi difende. Siamo sulla Grand Sky e... No, rimane bloccato lì. Sei bravo, eh. Mettilo a sedere. Sei proprio bravo, non posso metterlo a sedere. Wow, scoppia. Vedi, no, risponde solo a te, rispondo. Mettilo te a sedere. Visto? Perché fai esplodere le cose qua? Tanto non spacca nulla. Iniziamo, anzi no, continuiamo ragazzi, guardate un po'. Tataaa. C'eravamo arresi. C'eravamo arresi, poi un giorno è nato l'uovo. È nato l'uovo. È nato. È nato, sì, è nato l'uovo. Taccati. Prendi. Spawn Chicken. Quindi questo lo mettiamo qui. No, devi fare... Eh? Sì, tieni andando in inventario, non lo spaccare. Qui vedi 100. Ok, Spawn Squid. Spawn Squid, allora, bisogna farlo... Ilaria mi aveva detto... Com'è che si chiama? Alchemic... Qualcosa. C'è... L'arche... Alchemic? No, il macchinario devi fare. Alchemic chemistry set. Ok, facciamolo. Perfetto, qui sta andando. Eh, la pallina dov'è? Che per... Oh, eccolo. Oh, oh, di già? Ma l'altra volta ci ho messo 8 ore. Secondo me non andava. Comunque, prendilo, la pallina ce l'ho io. No, via. È già finito? Sì. Dai, andiamo, andiamo. Ragazzi, cioè, è pazzesco, eh. Cioè, l'altra volta ci abbiamo messo 8 ore. Dai, apri la crafting. Bravissima. Bam. Ok, e questi cosa sono? Devo farli, questi? E quello è per un'altra moda. Sì, fallo. Facciamo, facciamo, vi sa che ci siamo. Via tutto, via tutto. Leviamo tutto. Queste sono le bamboline voodoo. Bella. Ma a cosa servono le bamboline voodoo? Perché c'è questo? Quelli sono... No, le scelto io non so perché. Oh, era così. Perché ci mette anche il bastoncino sotto. E cosa fa quel bastoncino? Quelle sono per... Oh, la padella! C'è la padella! Per la seconda... Gruppo delle quest. Ok. Ok. Ci sono tutti gli oggetti da cucina, in poche parole. Sì. E cosa servono materialmente? Non si sa. Cioè, sono solo per... Eh, quando piano piano che vai avanti... Ah, mi hai rubato un blocco. Rubato... Eh, 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 eh. Ok, abbiamo tutti... Mi hai fatto il mortaio. Ok, aspetta, prendiamo tutto, prendiamo tutto subito. Allora, qui. Questo bisogna andarlo a fare. Dov'è? Ice Kitchen. Ok, qui. Vedi? E qui la padella. Questa, l'ho tutta... Oh, questo quando è che l'abbiamo fatto? Perché? Fresh water. Bo, vabbè. Vabbè. L'acqua fresca. No, ma non l'abbiamo mai fatta. Ok, là, questo qua. Bisogna metterci... e aspetta prima mangiamo mangia il cuore e apriamo la bustina 3 2 1 via che cavolo però è io li swirling glass si vabbè ma io non c'ho mai niente di bello ma proprio mai eh sospesa allora ah ho capito cos'è ho capito ho capito se io metto quella qui questo qui si e due questo qui non succede niente può forse riuscire un po di tempo intanto vabbè aspettiamo piano piano e cosa si fa altro dobbiamo andare nel nether quindi ragazzi bisogna appunto visto che abbiamo fatto uno spazio enorme laggiù creiamo l'altare e l'altare addio la porta dov'è blocchi a caso 1 2 3 4 5 6 7 8 con terra vabbè prendiamola tutta non mi ricordo se mi esci vabbè poi l'acciarino che la pallina è diversa ragazzi il nether nel prossimo episodio ci andremo però è vero apposto tutto no no ma nel prossimo prima bisognava prepararsi mentalmente fisicamente armaturalmente eh tutte le parti insomma abbiamo fatto nulla in questo episodio no no una questa si fa non è ancora pronta perché perché non mi va qui ma perché non va quindi niente ragazzi siamo arrivati a un punto dove cioè o prendi o vai nel nether o non va avanti no te l'ho detto cosa si può fa con la team si facciamo l'auto packaging che ti ho già fatto dov'è sopra quello che hai detto te questo che ok e questo cosa fa l'ho vista anche agli altri non lo so ah è quello che ti auto crafta la roba uuuh li dai il comando di dici graffa mi lo so buona questa cosa e qual è qual è dov'è è quello che dicevi prima te lassù ok perfetto vai facciamo quello e poi bisogna andare un po' avanti e poi hai presenti adesso però se prossimi ragazzi bisogna proprio darsi 傳 me da fare ma a 2.000 è 2.000 veloce veloce eccolo qua pronti tutto tutto preferably quando mi dobbiamo smaccare lente quindi vuol dire cheekate finito pair fit krys si è al 76 io quindi perché pone manca a strażgerismo così facilissimo cosa facilissimo e poi tutta questa cosa quadic adesso del nether se più o meno siamo 80 per manca poco dai ragazzi allora manca pochissimo quindi nel prossimo episodio io direi dai che il prossimo episodio ce la facciamo a finire tutto boh ci proveremo dai 20% ragazzi ci si può fare se non moriremo 3000 volte nel nether eh ragazzi da qui nel prossimo episodio ci prepariamo mentalmente fisicamente e armatorialmente per il nether e questo va eh se quello andasse eh 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 mannaggia te mannaggia eh prova a metterci il sangue eh dammi no non c'ho la pallina come c'ho la pallina non c'ho nemmeno io la pallina l'ho posata ma ti hai detto che se ci vede solo fa te lo da vabbè dai ci vediamo in un prossimo episodio intanto noi ci dissangueremo piano piano da mille e mille domani c'è tutta la linea allo studio ciao ragazzi ciao